E almeno, dai, questa è andata abbastanza bene, si può dire anche così, vedendo comunque quella che era la squadra di fronte a noi, che per carità nel precedente era stata battuta per 3-0, però comunque in una situazione ambientale un pochino differente rispetto a quella di oggi. E dico la verità, io onestamente avevo seri dubbi riguardo la qualificazione alle semifinali, mentre invece per fortuna è andata bene e serviva, e serviva soprattutto magari al gruppo, non all'ambiente in generale, dato che comunque la situazione continua ad essere quella che è. Però almeno a livello di gruppo, dopo una sconfitta in casa contro il Monza, hai di fronte a te qualche giorno dopo una squadra comunque importante contro la Lazio per ambire all'unico titolo forse ad oggi veramente alla portata, perché l'Europa League, sì, ok, puoi fare un bel cammino, puoi fare un bel percorso, però il valore di diverse squadre che ci sono, in particolar modo quest'anno puntualmente, è abbastanza importante. Quindi la Coppa Italia probabilmente è quella competizione forse un pochino più fattibile, anche se in effetti adesso c'è un doppio confronto contro l'Inter, che non è banale. Ecco, vedremo in che situazione arriverà la squadra il 4 e 25 aprile, ci sono due mesi praticamente, le due partite si giocheranno tra due mesi e tre, praticamente magari si spera in una situazione un pochino più tranquilla per affrontare al meglio quel doppio confronto, però già è buono, secondo me, essere passati, essere tornati alla vittoria, magari essere tornati anche a non subire gol, visto che purtroppo è stata una costante delle ultime partite dove, spesso e volentieri, non dico che hai preso delle imbarcate, ma anche poco ci manca. È stato bello finalmente rivedere Chiesa e Vlaovic dall'inizio, rivedere, rivedere non è neanche il termine corretto, dato che è la prima volta, quantomeno con la maglia della Juventus, Vlaovic sembrava decisamente la brutta copia rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere fino a questo momento qui. Speriamo sia solo ed esclusivamente legato alla pubalgia, ai problemi che ha avuto, perché per carità comunque non giocava dal 25 d'ottobre e siamo a febbraio, quindi comunque sono quei tre mesi e qualche giorno, quasi tre mesi e mezzo, quindi per carità l'approccio non è sempre semplicissimo e lo metto in dubbio, ma più che altro mi spero, mi auguro sia solamente attribuibile a quello e non magari ad una testa che già altrove e quant'altro, magari è solamente una mia paura vedendo quello che è l'ambiente, però non lo so, purtroppo in questo momento devi prendere in considerazione un pochino tutto quanto. Ho notato anche che per l'ennesima volta un contatto come quello di Ronaldo Iuliano non è stato fischiato, sarà mia premura ritrovarmi qui nel 2048 a ricordarvi questo episodio, vi faccio questa promessa che potevi incanalare praticamente sin da subito la partita su binari decisamente differenti, mentre invece l'arbitro non ha deciso in questo modo e dopo praticamente lo scandalo più grande della storia del calcio mi sarei immaginato una valutazione corretta a detta dei residenti nel metaverso, mentre invece per l'ennesima volta così non è stato e almeno il gol del Colosso di Tapitanga che dopo qualche partita un pochino così difensivamente parlando, quanto meno ti regala l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, ma oltre all'aspetto offensivo con il gol di fatto che ha deciso il match, oggi a grandi linee dietro ha retto un pochino tutta la baracca, vuoi anche perché magari sei stato bravo a non far tirare la Lazio in modo pericoloso, perché magari loro non erano al 100% della condizione ed hanno un pochino cannato la partita, ma a me questo onestamente interessa davvero fino alla certa. Nel complesso penso che la Juventus abbia fatto una buona prestazione, è vero, purtroppo è ciò che passa in convento, ne sono pienamente consapevole, molti potrebbero dire, beh cazzo se questa la consideri buona, eh lo so, ma siamo abituati anche decisamente di peggio, questo lo dobbiamo riconoscere, no? Cazzo, almeno Allegri sappiamo che è la criptonite di Maurizio Sarri, al momento doppio confronto 4-0 per Massimiliano Allegri, no? A livello di gol fatti e gol subiti, speriamo che Sarri non vada a ribaltare la sentenza nella partita di campionato che ci sarà all'Olimpico, che comunque, oh, dopo che ne hanno fatti 4 al Milan onestamente può essere tutto, non lo so però, nel senso, è un augurio, è una speranza, così come almeno, dai, abbiamo visto anche un Kostic vivo oggi che veramente da dopo il ritorno dei mondiali abbiamo visto quasi sempre una brutta copia del Kostic che abbiamo visto fino a metà novembre, mentre invece oggi comunque intanto ha fatto l'assist per Bremer, poi ha messo diversi palloni interessanti che non sono stati capitalizzati al meglio, uno sulla testa di Rabiot, un altro in mezzo all'aria dove Ken magari non ci ha creduto troppo e magari lì potevi chiudere la partita, fagioli come al solito, solita garanzia di qualità, così come Rabiot che sembra un pochino più in ripresa rispetto anche lui alle ultime uscite, dove però i discorsi sono proprio a livello generale, a livello di gruppo, non tutti che facevano bene, a parte qualche caso eccezionale, un pochino tutti hanno navigato in un mare un pochino mosso, ecco, e lo capisco, lo comprendo, infatti era per questo che serviva, non dico necessariamente una bella prestazione, però un bel risultato soprattutto oggi, perché se oggi uscivi anche dalla Coppa Italia, chiudevi Baracca e Buratini e tanti saluti, ci vediamo la prossima volta, mentre invece così, per carità, adesso hai un doppio confronto contro l'Inter, ma almeno ce l'hai tra due mesi e praticamente quasi tre, dato che la semifinale di ritorno sarà il 25 aprile e magari la situazione sarà un pochino diversa, non dico migliore, non dico migliore, assolutamente lungi da dire migliore, però diversa, sperando, sperando possa essere migliore, questo sì, come speriamo possa essere migliore anche la situazione di Juan Quadrado, che anche oggi, insomma, ha fatto capire che non è propriamente al massimo, e lo sapevamo già, infatti mi ha anche stupito praticamente la partita intera, ha giocato cos'è 87-88 minuti e poi De Sciglio ne ha fatti i 6-7 finali, vabbè, giusto per fortuna, va benissimo, 6-7 finali va più che bene se li deve fare De Sciglio, però questo è, questo è, sta ritornando tutti e speriamo ci possa iniziare a vedere un qualcosa di bello, anche perché adesso per i prossimi due mesi, ok, gli impegni di Europa League, ma c'è il campionato, e vuoi o non vuoi, dato anche le voci che sono iniziate a circolare stamattina, nonostante indubbiamente non sia facile, non sia semplice, lo riconosco e da questo punto di vista ci potrebbero essere degli alibi, tocca far punti, c'è poco da dire e poco da fare, tocca far punti e rispondere sul campo e soprattutto sperare, ma sperare tanto è forte, detto questo ragazzuoli, nulla, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!